Sarà capitato a tutti, comitiva dei ciclisti, non al lato della carreggiata, ma in mezzo alla strada. Poi ci sono i dati, in provincia di Lecco un incidente in bici ogni 3.300 abitanti. L'obiettivo è quello di abbassare sempre più questa percentuale. Da qui la nuova iniziativa promossa dal vulcanico Angelo Fontana della polisportiva Monte Marenzo, che ha lanciato il primo concorso fotografico sulla sicurezza stradale. Le foto devono ritrarre ciclisti che procedono in fila indiana, così come pervede il codice della strada, e devono essere scattate tra il 15 agosto e il 15 settembre 2018. Gli scatti, massimo 3, devono essere inviati in formato digitale entro il 19 settembre ad angelofontana50chiocciolagmail.com. Non sono chiaramente consentiti artefatti e fotomontaggi. In post-produzione è possibile modificare solo la dimensione, la luminosità, la correzione del colore. Il concorrente deve indicare nome, cognome, indirizzo, email, telefono, la località dove è stata scattata l'immagine. Saranno pubblicate sul sito www.unpaeseperstarebene.it, mentre una giuria composta da esperti fotografi del luogo, designati dalla polisportiva di Monte Marenzo, deciderà i vincitori. La partecipazione è gratuita in paglio, cene e pranzi in ristoranti del territorio, ma soprattutto la certezza di aver contribuito a rendere più sicure le nostre strade. Grazie. 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 Grazie.